Easy Go Easy Go Easy Go Easy Go Easy Go Sous-tit! Cosa c'è laggiù? Mimir, puoi finire la tua storia? Ma certo! Dove eravamo rimasti? Eravamo arrivati a Bergelmir e alla sua regina che fondavano un nuovo regno. O te la posso raccontare più tardi? 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 Mimir, puoi finire la tua storia? Ma certo! Dove eravamo rimasti? Eravamo arrivati a Bergelmir e alla sua regina che fondavano un nuovo regno. O te la posso raccontare più tardi? 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 O te la posso raccontare più tardi?